Sanremo 2023, siamo in compagnia di Will, ciao! Ciao, eccoci qua, finalmente! Finalmente, allora siamo pronti quasi per la tua prima esibizione, la tua prima volta all'Ariston, sarai il primo nella serata di mercoledì, emozionato? Super emozionato, puoi aprire, è sempre un onore particolare, io che sono il più novellino di tutti forse, sarà bellissimo, non vedo l'ora! Tra l'altro hai già respirato l'atmosfera sanremese, perché sei stato uno dei vincitori di Sanremo Giovani a dicembre, quali sono le differenze tra le cose più importanti, il brano che hai portato appunto per Sanremo Giovani e Stupido, che invece è il brano in gara tra i big? Ce ne sono parecchie, in realtà le cose più importanti è un pezzo particolare che ho voluto proprio, quello sì, era proprio la mia idea portarlo, cantarlo live a Sanremo Giovani, perché volevo andare per differenziarmi una cosa un po' più, forse con un occhietto in più al passato, a qualche sonorità vecchia, che però vecchia non è, perché in Italia certe cose giustamente non passano mai di moda. E sono stato molto soddisfatto anche di cantarle in quel modo, senza l'autotune, che è stata un'esperienza nuova per me, studiare canto, arrivare più preparato, mi ha proprio servito. Stupido invece torna un po' a pescare dal mio solito dove mi piace muovermi, e per me è più per tutti, più per tutti, arriverà più potente, proprio a livello di struttura è diversa. E tra l'altro proprio in questa settimana del festival, il venerdì uscirà il tuo album, Manchester or Manchester, all'inglese? Mi piacerebbe dire tutti Manchester, ma poi so che magari è bello che si dire Manchester all'italiana, siamo in Italia. E tra l'altro partirà proprio un Instortour qui da Sanremo, come andrà? Raccontaci un po' di questo album. Intanto partiamo con l'Instortour, che è bello. Per la prima volta avrò l'occasione di dedicare un po' di tempo a ogni fan, che mi incuriosisce molto anche come è l'esperienza. Il disco, semplicemente sui ultimi tre anni, i primi tre anni di musica per me, e sono le canzoni alle quali tengo di più, che mi ricordano ognuna dei momenti particolari della mia vita. Infatti poi riascoltandolo ci ho visto talmente me stesso che ho detto ok, lo chiamo come il posto dove viene mia mamma, un posto che la mia famiglia è molto legata alla città, e quindi non vedo loro, vedano tutti anche questo lato di me. Invece per la serata delle cover sarai in compagnia di Michele Zarrillo, per il brano Cinque Giorni. Com'è andata la scelta? Com'è andato anche a lavorare con Michele? Intanto lui è una persona incredibile, che non è mai banale. E poi quando di solito magari apprezzi un artista, poi lo conosci, magari cambia idea, invece io l'ho addirittura, l'ho amato ancora di più, certo. E poi, dico, stiamo parlando, Cinque Giorni, canzone incredibile, gioiello delle canzoni d'amore italiane. Non vedo l'ora di cantarla, so che sarà una serata magica per me, che mi porterà nel cuore per sempre, anche perché sono molto molto contento di come viene la canzone. Benissimo, allora noi ti facciamo un grossissimo in bocca al lupo e buon Sanremo, ovviamente. Viva il lupo, grazie.